Siamo con Linda Laura Sabatini, Chair Women2021. L'appuntamento con Women20 è in Brasile dal 30 settembre al 2 ottobre. Qual è il focus di questa edizione? Il focus è dotarsi di una strategia globale per l'uguaglianza di genere. Noi vogliamo che questa venga perseguita veramente dai governi del G20 e che le raccomandazioni che normalmente escono dalle declarations dei leader diventino realtà perché non sempre vengono perseguite dai governi come si dovrebbe. Vogliamo che fino in fondo venga adottata un'ottica di guardare al mondo con gli occhi di donna. Non c'è bisogno di una strategia globale contro la violenza del genere sia in termini di prevenzione che in termini di punizione. C'è bisogno di sviluppare l'economia della cura, di fare in modo che le donne non abbiano tutto il carico del lavoro familiare sulle spalle che le penalizza nell'affermazione sul lavoro sia in termini quantitativi perché ancora non sono abbastanza le donne che lavorano sia in termini qualitativi, in termini di gender pay gap, di part time involontario, di precarietà del lavoro e anche di carenza nel mondo scientifico e tecnologico. Tutti questi sono aspetti che i governi devono affrontare, devono portare avanti una battaglia contro gli stereotipi di genere che ingabbiano le donne e che fanno sì che le donne debbano sempre scegliere tra maternità e lavoro.